Salve a tutti, ho deciso di fare questo video, scusate la mia abitinatura, ma sono piuttosto sudato per la recensione che ora andremo a fare di questo case che ho deciso di fare perché non ho trovato l'ecensione in giro di questo case è un Mars Gaming 51 MC51 nero, c'è anche la versione bianca ed è questo qua con questo design che va a riprendere linee di altri case più famosi che però costa 100 euro questo case, a differenza dell'Antec Torque che costa 300 euro del Cougar e ho capito perché costa 100 euro il case ha due veti temperati, sia di qua che di là con delle viti a triangolo, quindi bisogna usare un cacciavite o a triangolo o quelli piatti per toglierle ce ne sono tre per ogni lato, c'è solo un tasto di accensione, c'è lo sdoppiatore per l'audio microfono jack cuffie e due USB 3.0 finito, non ci sono altri tasti di reset né per controllare le luci ci sono cinque ventole che non ho ancora acceso due nella parte, beh, quattro nella parte anteriore e una nella parte posteriore e mi sono arrivate molto molto strane, nel senso che queste qui davanti sono così come le vedete cioè tutte in emissioni questa qui dietro era in espulsione e questa qui dietro era in emissione cioè c'erano quattro ventole in emissione tra cui quella dietro che è assurdo e l'unica che era in espulsione era questo cioè quella che è sotto e non ha alcun senso logico anche perché l'aria la va a pescare di queste qui che le buttano dentro, prendono e le buttano fuori senza di fatto riscaldare niente cioè senza tirar fuori aria calda per intenderci perché butterebbe fuori l'aria fresca che queste due davanti mettono dentro e tra l'altro, anche se qui ci fosse aria calda poi l'andrebbe a ripescare quelle davanti quindi non ha alcun senso come erano impostate le ventole e mi è arrivato così quindi l'ho smontato, le ho rimesse a modino nel senso cui dovrebbero essere comunque c'è anche spazio per due ventole aggiuntive nel top queste ventole che sono piuttosto sono trattute trasparenti con le pale bianche con dei insomma degli intagli a diamante insomma per farli sembrare molto più preziosi ma in realtà fanno piuttosto pena come qualità e sono a 6 pin il connettore è questo qui per fortuna c'è un controller che ci viene dato in dotazione che praticamente ti può collegare fino a 6 ventole 8 ventole a 6 pin e due led strisce led quelli a 4 pin e viene alimentato da un SATA e ha anche due attenzione ha anche due addressable rgb con il 3 pin e qui invece c'è l'uscita che è un rgb per le schermatri quindi non si ha la possibilità di controllare in alcun modo la velocità delle ventole perché si collegano tutte al lab e il lab non si collega alla schermata quindi vanno alimentate col SATA e per 100 euro il case diciamo che è piuttosto beh abbiamo anche un utile tasto di reset qui che in modo non serve a cambiare colore ai led senza se non abbiamo schede madri con il connettore a 3 pin o 4 pin per gli rgb però purtroppo questo case non ha tasti di reset o di led per collegarci qualcosa quindi almeno che noi non ci vogliamo collegare il tasto di accensione è inutile praticamente il problema è che appunto per come accendo il computer senza tasto di accensione lo puoi accendere ma ovviamente sto sto facendo vedere che proprio non ha alcun senso esistenziale questo case a parte il prezzo che è diciamo molto molto alto e non offre cioè ha solo il design ovviamente che attira l'occhio ma poi dentro non ci sono gabbie per hard disk ci si possono montare 4 ssd da 2 pollici e mezzo forse anche 3 pollici e mezzo però per collegare 3 pollici e mezzo bisogna metterli prima della scheda madre perché si avvisano dietro quindi se ci metti a scheda madre poi la devi smontare per metterci le hard disk che non ha alcun senso secondo me nel 2021 e che dire questo case a parte il vetro temperato che diciamo è decente e in realtà anche il telaio le finiture l'intaglio è fatto molto bene non è spigoloso non ci si taglia però finisce lì cioè 90 euro è molto molto eccessivo cioè questo case andrebbe bene un case economico cioè sotto i 50 euro sarebbe un buon case comunque ora lo proveremo andare a accendere usando un accrocchio o un alimentatore per vedere se le ventole funzionano e che 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 colori fanno le luci i led che sono curioso dato che le puoi controllare solo tramite telecomando se non c'è scheda madre quindi ti danno un telecomandino e ora andiamo a provare con l'accensione del case allora sono viola ok ora vediamo tramite telecomando se si possono mettendo a spingere si si spengono si accendono c'è un tasto auto ah che ti fa l'effetto a caso praticamente ora non so se è a caso o tutti gli effetti possibili che può fare questo andrebbe visto vabbè ci sono tutti i singoli colori come potete immaginare poi c'è un s più che s meno che non so cosa sia no ah per controllare le ventole quindi in realtà le ventole si controllano e si possono anche fermare andiamo alla massima velocità per vedere quanto rumore fanno beh non fanno molti rumori quindi immagino siano piuttosto lente secondo me saranno mille mille due rpm come massimo poi abbiamo invece m più m meno ok ti cambia cambia semplicemente l'effetto di led a questo questo che ha solo un filtro qui non so perché gli altri filtri se ne sono dimenticati evidentemente allora il fatto del telecomando per controllare i led e la velocità non è male in realtà però io comunque preferirei comunque avere un controller da software senza dover usare il telecomando che sicuramente il telecomando è molto più veloce e molto più utile per certe versioni però se uno lo perde poi capite bene che ha il suo grosso problema il telecomando cioè comunque usa una batteria a bottone 25 mi pare 20-25 sì questi sono tutti gli effetti di luce che può fare sicuramente al buio rendano molto di più però come ho detto la qualità dei led si vede cioè la qualità delle venturi si vede che infatti i led si notano singolarmente diciamo che mi aspettavo tanto ad acquisto case e purtroppo beh non ci sono recensioni e il motivo è perché non vale la pena recensionire questo case in realtà perché nessuno può consigliare l'acquisto di questo case oggettivamente se ti piace il design così sì ci sta però tanto vale spendere 100 euro in più per avere qualità anziché avere un pezzo di ferro sei bello però alla fine non ti offri niente di speciale sto vedendo che il tasto invece del cambio di intensità luminosa non funziona molto bene infatti non cambia intensità luminosa no quindi non possiamo cambiare l'intensità luminosa ma solo la velocità del vento beh che dire questo è tutto io non vi sconsiglio ovviamente di acquistare questo case anche perché lo spazio all'interno è molto molto angusto dietro non abbiamo come potete vedere molto spazio per i cavi ci sarà se no un centimetro e mezzo due dita non ci abbiamo posti dove fissare le fascette non ci sono ferratoi bocchette quindi il lavoro del cavo management qui è piuttosto carente purtroppo anche se uno è molto bravo qui considerando che qui poi c'è un vetro in plexi che è trasparente non capisco come mai non farci una cover o comunque cercare di fare un design più più bello per i cavi pazienza che dire questo è tutto